I contributi della Regione Toscana per l'efficientamento energetico sono stati al centro del format 60 minuti di promosso da Confartigianato. Tra i relatori Valerio Marangolo, funzionario della Regione Toscana responsabile della gestione dei fondi europei in materia di energia. Un'occasione per le realtà associate per reperire ulteriori informazioni e porre quesiti. Grazie a questi contributi messi a disposizione dalla Regione appunto, le nostre aziende avranno un'agevolazione per fare quegli investimenti necessari per avere appunto un upgrade di quello che è il valore dell'ecosostenibilità, sempre più richiesto e centrale in molti aspetti. Non dimentichiamo che non solo ci sono i bandi regionali, ci sono anche tante altre opportunità a livello nazionale e soprattutto i nostri imprenditori non devono dimenticare di essere imprenditori, nel senso che l'efficientamento energetico si può fare a prescindere dal bando ma semplicemente perché si fanno delle valutazioni economiche su quello che è il nostro consumo all'interno dell'azienda, all'interno dell'impresa. Ci si affida a professionisti che ci aiutino ad analizzare quelli che sono i nostri consumi energetici, non solo il costo da bolletta ma proprio quello che è l'energia che consumiamo e questo è importante perché una volta che abbiamo scoperto quello i bandi ce ne sono tanti e comunque si viene a scoprire magari che anche senza il bando ma facendo un investimento mirato su quello che è un efficientamento energetico o un'energia rinnovabile che viene regalata dal sole o dal vento, da quello che è, potrebbe essere la soluzione ai nostri problemi e ridurre quindi i costi.